La reggia di Capodimonte e le catacombe di San Gennaro a Napoli sono state la cornice di un evento che ha celebrato l'impegno di Parmacotto nei confronti della città partenopea e il legame storico e culturale tra le città di Parma e Napoli. Il Bread del Food Italiano ha deciso infatti di avviare proprio a Napoli un percorso di impegno sociale e culturale, inserito in un più ampio progetto di responsabilità etica d'impresa, soprattutto in vista del 2020, anno cruciale per Parma, eletta capitale italiana della cultura, come ha spiegato la D. Andrea Schivazzappa e il presidente Giovanni Zaccanti. Oggi proporremo questo format anche all'amministrazione, questo passaggio alle gallerie farnesiane dove ci sono tante opere della nostra tradizione, dei nostri grandi pittori come Correggio, Parmigianino, Guidoreni e Carracci. È il momento di riflessione, di riportarsi anche a pensare a Parma come luogo di grande interesse per il 2020 dove anche noi saremmo coinvolti in tante iniziative. Napoli ha dato tanto a Parmacotto con gli uomini che aveva e con i prodotti soprattutto dedicati a Napoli e credo che se Parmacotto oggi è in queste condizioni c'è anche un valore aggiunto che ha dato questa città. Credo che in ogni azienda che si rispetta ci sono dei valori che vanno condivisi, che vanno sempre perseguiti. Noi stiamo lavorando in questo senso. Parmacotto mantiene quindi il suo sguardo su Napoli, dopo aver siglato lo scorso novembre con la cooperativa La Paranza di Napoli, un accordo che prevede un sostegno economico per il restauro degli affreschi del vestibolo superiore d'ingresso, la parte più preziosa delle catacombe di San Gennaro. Ascoltiamo il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. L'occasione di oggi è proprio quella di iniziare a stabilire un ponte tra Parma e Napoli. La Parmacotto ha già fatto tanto e in vista di Parma 2020 come capitale della cultura del 2020 si vuole cercare di creare un asse per beni culturali, per iniziative culturali tra la città di Napoli e la città di Parma. La mia presenza qui oggi insieme all'assessore alla cultura è proprio per ribadire la nostra disponibilità e cominciare a lavorare per fare questo. Penso che ormai le occasioni di scambio culturale sono sempre di più e devono essere trasversali tra le città, trasversali anche per dimensione, per regione, per località. Con Napoli abbiamo sicuramente un filo conduttore che viene dal passato, cercheremo di partire da quello.